Per il caffè di oggi su Tennis Coffee ho selezionato un telaio molto molto divertente Wilson Ultra 100 V3 nella colorazione Minions Al momento è in commercio la versione V4 della Wilson Ultra, una racchetta molto molto interessante La V3 è ancora in commercio, ha un ottimo prezzo Considerate che è un telaio V3 nuovo, lo trovate serenamente sotto i 100€ Con un po' di fortuna sui 85-80€ Quindi parlo di telai nuovi Questa versione Minions è ancora molto molto diffusa Tra l'altro la trovate in commercio, probabilmente non si è venduta tantissimo Motivo per cui trovate ottimi prezzi su questo prodotto Ed è semplicemente una Wilson Ultra 100 V3 Quindi è a tutti gli effetti la racchetta che avete visto in mano a Maria Saccari Ex numero 3 del ranking VTA Quindi stiamo parlando di una racchetta assolutamente da torneo Certo, non è una Pro Stock quella che andate a comprare Però le caratteristiche fondamentali della racchetta sono rispettate Partiamo subito col dare qualche dato tecnico È una delle racchette che si vanno ad acquistare quando ci si avvia al tennis Forse non è in assoluto la più indicata Però ha tutte le caratteristiche È una profilata Abbiamo un profilo medio di 26 Quindi 22, 26, 24 Abbiamo un piatto 100 E abbiamo un peso di 300 grammi Il bilanciamento è 32 È anche una racchetta dalle forme abbastanza consuite Ma cicciotte Un cicciotto che poi quando parleremo di incordatura Vi dirò insomma qualche, non problemino Ma qualche accorgimento che va utilizzato È una racchetta con la quale ho giocato Quando ho iniziato a giocare Nei primi tempi Ci ho giocato per un po' E ho voluto riacquistarla Quindi questa è una racchetta che ho conferato Per farci un test Perché volevo un po' Mi volevo togliere lo spizio di usarla in campo Vedere un po' come fosse cambiato il mio gioco Visto che sono sceso da racchette così profilate Per passare a profili più classici A telaio un po' più classici E sinceramente la differenza la sentivo Perché è una racchetta che quando colpisce Colpisce forte Però non ti dà tutte le grandi possibilità Che un telaio più classico ti permette Di avere in ambito di gioco Diamo altri dati su questa racchetta Perché quello che ho appena detto Non è negativo È semplicemente la caratteristica di questo telaio Rigidità 71 punti È un telaio molto rigido È un telaio potente Ed è anche un telaio molto rigido L'inerzia è interessante 322 Non è un'inerzia bassa 320, 322 Dipende sempre dal peso delle corde Che andiamo a caricarci Da eventuali vibra Che si vengono a mettere sul telaio Eccetera Però non è una inerzia bassa questa Certo C'è da dire che è molto bella E ogni volta che ci ho giocato Ci ho giocato veramente Due o tre ore In due o tre diverse occasioni Qualche palleggio Però vi posso dire che nel club Un po' tutti la guardavano Perché è un giallo che si fa notare Poi è grossa È bella cicciotta Mentre la colorazione classica della racchetta Quella grigio nera blu Che utilizza la Sakkari Che utilizzava la Sakkari Perché ovviamente è passata la V4 È meno appariscente Da anche l'idea del profilo un po' più snello Questa pur essendo fisicamente uguale a quella È veramente un oversize Da di oversize Da di racchettone Infatti uno dei membri anziani del club Passando ha detto Sei passato al racchettone Ma in effetti è un piatto 100 Come la Indboom Che utilizzo molto molto spesso Schema corde Classicissimo 16-19 Un piatto Diciamo Non è estremamente fitto Non è estremamente diradato È classicissimo Difatti è Tra i telai profilati Tra i telai potenti Un classico Un classico che va molto bene In colpo piatto Quindi è una racchetta Per chi inizia a giocare Sicuramente ci può stare E anche per chi poi continua Perché offre potenza Una maneggevolezza Che non è al top di gamma Per me E non si tratta di avere Non avere un braccio forte È semplicemente Meno maneggevole di altre Quindi dipende dal vostro tipo di gioco Offre comunque anche Un discreto spin Realmente offre Più un back Che un top Però stiamo parlando di Minuzie Perché se questo telaio Venisse adottato da un principiante E da un'amatura Entro i primi due anni Enormi differenze Non riuscirebbe a coglierle Sarebbero Non così diciamo Evidenti Certo Non vi offre Effetti Di altissimo livello Quindi La palla corta Smorzata Riesce Ma non è la sua Prerogativa Va bene a rete Perché comunque È abbastanza Maneggevole Certo non è una 98 classica Con un profilo più Più piccolo Più rastremato E con un'inerzia minore È sicuramente Una racchetta Che può fare Un po' di tutto E che va bene Sicuramente A chi Inizia Anche se ripeto Avrei suggerimenti diversi Ma va bene Anche A chi invece Vuole Continuare a giocare A livelli più alti Non mi meraviglierei Di vederla Tra le mani Di un categoria 3 Anche con una Customizzazione minima Parlando di customizzazione Wilson offre la possibilità Di aprire il fondello Del tappo C'è un buchetto Si infila Un Un coltellino Insomma Qualcosa E potete aprire il tappo Io qui vi ho aggiunto Del peso Del peso Che mi permette Di muoverla Un po' meglio Considerate che la fisica Di una racchetta Non è quella Di una spada Ma in alcuni dettagli Lo è E per farvi un esempio Proprio inerente Il mondo Degli spadaccini Consideriamo Una katana Giapponese La famosa Spada degli samurai E una classica Invece Spada medievale Europea Quindi quegli spadoni Abnormi Che avete visto In mano Ad Arnold Schwarzenegger In Conan Il Barbaro E che come noterete Sotto L'impugnatura Sotto il manico Hanno spesso Un peso importante Quel peso Altro non fa Che Alleggerire L'intera struttura Perché le spade Medievali Europee Erano estremamente Pesanti A differenza Delle katana Giapponesi Che invece Non hanno Questa tipologia Di contrappeso Proprio perché Erano molto più Esili E leggere Stessa cosa Vale fondamentalmente Nella fisica Di un attrezzo Se noi Appesantissimo Il manico O meglio Il fondello Percepiremmo Una maggiore Leggerezza Dell'attrezzo Io l'ho fatto Con questo attrezzo Non cambia L'inerzia Che invece Io ritengo Essere molto importante Per il mio Stile di gioco Ma in effetti Diventa Più leggera Diventa La si percepisce Più leggera Non diventa Più leggera Perché in effetti È diventata più pesante In questo caso Di ben 5 grammi Però È una modifica Rimovibile Pertanto Se questa cosa Non vi piacesse La potete Tranquillamente togliere Nel caso di Wilson Potete inserire Velocemente un peso E toglierlo Nel fondello Ma tranquillamente Potete attaccarci Una monetina Con del nastro Isolante Considerate che Una moneta Da 50 centesimi Già pesa qualche grammo Quindi Lo trovate facilmente Online Piso di ognuna Delle monetine Che avete nel portafoglio Quindi potete divertirvi A fare questi test Semplicemente Con una monetina E bloccarla Con del nastro Isolante E poi magari Metterci sopra L'overgrip Vi darà Già un'idea Di quello Che è il cambiamento Potreste abbassare L'equilibrio Il punto d'equilibrio Della racchetta Con del peso qua Ma andreste ad aumentare Ulteriormente L'inerzia Quello che pertanto Vi posso dire È che Sicuramente È una racchetta Dall'ottimo Impatto Una racchetta potente La serie ultra È la racchetta potente È la serie ultra Di Wilson È una racchetta Fatta bene Ben verniciata Buona qualità Delle finiture È una racchetta Che è stata fatta Per durare nel tempo Ovviamente Botte di telaio A parte Quindi se andate a sbatterlo A terra Non possiamo farci niente Una nota Sui grommets O meglio Più che sui grommets Sull'intera struttura Telaio In caso di incordatura Specie nella parte Inferiore Delle corde Iniziali inferiori Si incorda Dal basso Questa racchetta Specie nella parte Iniziale Il telaio È così Largo Che Diventa Talora Difficile Far uscire la corda Centrare il grommets Cosa dire In merito alle corde Su questo telaio Ho montato Due corde Una Non mi è piaciuta La Eid Oak Calibro 1.30 Oak Touch Non Non l'ho percepita Come la corda idonea Per questo telaio Ho voluto testarla Perché essendo un telaio potente Ho pensato Che una corda Comunque da controllo Come la Oak Potesse essere idonea Ma Non mi è piaciuta Decisamente meglio Con la Lynx Tour Calibro 1.25 In questo caso Però non credo sia ancora La corda ideale Probabilmente avrei Fatto meglio Incordarla Con una Eid Lynx Touch Per restare in casa Eid O ancor meglio Con una Wilson Revolve Avrei probabilmente Ottenuto un risultato Molto molto valido Sicuramente In casa Luxilon Ci sarebbe Da divertirsi Con una Element Bronze Che al di là Che probabilmente Sarebbe molto carina Come colore Su questa racchetta Però sicuramente Così veloce E testare E testare un prodotto Di questo tipo La versione Minions Poi a mio avviso È spettacolare E a volte Pensavo di tenerla È stata venduta Ma ho pensato A lungo di tenermela Semplicemente Perché mi piaceva Molto il telaio Penso valga la pena Provarla Quindi se non la comprate Fatela prestare Provatela Perché vi fa Avere un'idea chiara Sul mondo Delle profilate Così cicciotte La V4 lo è meno Wilson è un attimo Tornata indietro Ma secondo me Questa tipologia Di telai Non è morta Quindi avremo ancora Dei telai del genere E può essere utile Capire in anticipo Quali siano Le vostre reazioni A questo tipo di telai In definitiva Io Non la raccomando Semplicemente A chi ha Già Coscienza Del fatto Che ami Avere un attrezzo Veloce In mano Non è velocissimo Per il resto È potente Se poi siete Dei giocatori Da spin Vi piace Il top spin Vi piace Lavorare molto Con gli effetti Vi piace Lavorare molto Con lo slice Idem Questa racchetta Non va bene Se invece Volete una sorta Di potenza gratuita Volete colpire La palla Malapena A un certo punto In un recupero E sapere Che la palla Avrà molte più chance Di andare Nell'altra parte Di campo Questa racchetta Fa per voi Ovvio Non è quello Il gioco Non consiste Nell'andare a comprare Una racchetta Che vi salvi Le palle limite Ma il concetto È che questa racchetta È potente E offre potenza Anche con una certa facilità Per chi ha già Un braccio potente Probabilmente Non vale la pena Perché C'è già potenza Nel braccio E quindi è meglio Lavorare con telai Più votati al controllo Più votati Alle rotazioni Per molestando Che la racchetta Ha il suo controllo Ha un bel servizio Ha tutto quello Che serve Servizio che a me Non piace Perché è pesante Da muovere Nell'aria Non vi sto parlando Di spostare Un carro armato Ma la differenza La sentite tutta La mia pietra Il paragone Sembra la Boom MP Id Quindi Un'inerzia Più bassa Ho provato La Kinetic Key 15 Prokenex E vi posso dire Che anche quella È una racchetta Dall'inerzia Molto bassa E veloce Ma ha un profilo Importante A differenza Della Id Boom Che invece È molto Molto più magra E quindi Si muove E taglia l'aria Molto più velocemente Motivo per cui Vi dico Provatela Se potete Toglietevi lo sfizio Se cercate potenza È lei la racchetta Per voi Se vi piace Il colpo piatto Con un minimo Di rotazioni È lei la racchetta Per voi La versione V3 È attualissima Non fatevi Sfuggire l'occasione Di avere Un ottimo telaio A meno di 100 euro Non vale la pena Cercarlo usato Perché va benissimo Il telaio nuovo Usato Io non pagherei Più di 60 euro Per il telaio In ottime condizioni Quindi con Una trentina di ore di gioco 40 Senza danni Diversamente La compro nuova Potete metterci Un po' tutte le corde Che volete Perché È un telaio Che vi può accompagnare A lungo Nel vostro game Nel vostro gioco Quindi potete passare Da corde facili A corde più importanti Come questa Link's Tour Per esempio E l'unica cosa Che vi raccomando È tentare Di capire Se vi possa piacere Una sensazione Di leggerezza Maggiore Su questo telaio Fermo restando Che tenerlo In mano Per due ore Di partita Non è devastante Nonostante Appunto Abbia Delle caratteristiche Visive Estremamente pesanti Però È pur sempre È un piatto 300 grammi A 32 di equilibrio Quindi Non stiamo parlando Di una Radical Pro Da 315 grammi Per intenderci Il nostro caffè Di oggi È finito In conclusione Vi invito A iscrivervi Al mio canale Perché ciò Mi permette Di offrirvi Sempre più recensioni Sempre più video Attivate la campanella Appunto Per non perdere Le novità Che usciranno Su questo canale Fatemi delle richieste Se avete bisogno O voglia Di conoscere Telai nuovi E vecchi Se avete Delle richieste Particolari Sul mondo Del record Su tutto ciò Che è il mondo Della customizzazione Dei telai Che è molto Molto importante Per un player E su quello Che è il mondo Dell'attrezzatura Che non è Solo il telaio Ma anche Tutto il corollario Cosa mettere Nel borsone Che calzatura Prendere Che palline Utilizzare Per giocare Sia per proteggere La nostra salute Sia per poterci godere Al meglio Il nostro tempo Sul campo da gioco Col saluto finale Non posso Far altro Se non invitarvi Al nostro prossimo Tennis Coffee